E a bella a tutti i gaspedroni, questo è lì insieme, io sono Matticiano44 e oggi vorrei fare un piccolissimo sponsor a un amico, si chiama TheBomber76103, iscrivetevi tutti, un canale bellissimo, per ora non fa tanti contenuti, però in futuro li porterà tantissimi, per ora sta facendo molte live, per ora che le cancela tutte. Vabbè, TheBomber76103, ragazzi, tutto staccato, TheBomber703, Angelino, all'immagine di uno skin di Minecraft, cercatelo tutti su YouTube, iscrivetevi, via, lo farete tanto felice, però non è che vi iscrivetevi, basta, non guardate i video, guardate i video perché saranno bellissimi. Vabbè ragazzi, vi consiglio a tutti di iscrivervi perché è un canale bellissimo e ci vediamo in un prossimo video, comunque arriveranno molti, molti titoli inaspettati, per esempio un nuovo gioco della Supercell, arriverà un tutorial, un tutorial, un tutorial di come scaricare Rush Wars, il nuovo gioco della Supercell, prima che esca, tutto, perché ora sta soltanto in base beta. E si possono scaricare soltanto in certi paesi, per esempio il canva, vabbè, però non è argomento di questo video, iscrivetevi tutti, a TheBomber76103, e ciao raga, se vedrò che ci saranno molte iscrizioni, farò un video per ringraziare tutti, e vi saluterò ovviamente, basta che mi dite il nickname, se vi siete iscritti, vabbè, raga ci vediamo, ciao raga.